Sindaco, oggi è una giornata storica per Mazzara del Vallo che guarda sia al passato, sia al presente, ma anche al futuro perché oggi ricordiamo, sveliamo, scopriamo la targa che ci ricorda i 120 anni di Villa Iolanda, una villa rifatta, riqualificata, ricordiamo ma anche un altro importante intervento che sarà portato all'arco normanno, simbolo della nostra città, tutto questo con il supporto di una grande realtà che è Edison Rinnovabili. Sì, siamo felici di accogliere a Mazzara gli amici di Edison Rinnovabili con il suo management, i vertici del management, a partire dall'amministratore delegato Fabio Lamioni che è qui a Mazzara. Per noi è una bella emozione condividere con loro la scopertura della targa di Villa Iolanda, il parco urbano della città, noi ne stiamo realizzando altri almeno un altro paio, ma questa è la storia di Mazzara. Una storia rinnovata dopo 120 anni che guarda al futuro. Oggi è bellissimo trascorrere qui le giornate, quasi avevamo dimenticato come si sta bene qui anche nelle calde giornate d'estate all'ombra di questi alberi che hanno 120 anni, hanno la stessa data di questa, la stessa età di questo parco. E allora, non vedo l'ora di scoprire la targa, Mazzara 1903, Villa Iolanda 2023. Davvero un momento storico per la nostra città. Sono molto felice. Dottor Lamioni, Edison rinnovabili investe prima ma soprattutto oggi in questa fantastica cerimonia in cui voi come azienda supportate le bellezze storiche architettoniche del comune di Mazzara del Vallo. Stiamo parlando di Villa Iolanda e poi anche dell'Arco Lormanno che è il simbolo della nostra città. Sì, veramente con grande piacere e con orgoglio che noi siamo qui oggi a aprire la targa per il rifacimento di Villa Iolanda e poi a parlare anche della ristrutturazione dell'Arco Lormanno. Questo è proprio un esempio della collaborazione che a noi piace con il comune, con l'amministrazione di Mazzara e di come noi intendiamo vivere il territorio. Collaborazione, vedere anche che le possibilità, ci sono dei ritorni sul territorio, che i nostri contributi, vanno in opere per la comunità, non solamente per risanare i bilanci ma veramente a disposizione di tutto. E la sintonia che abbiamo in questo momento con l'amministrazione locale di Mazzara è veramente il massimo. E questo è un esempio sia per Villa Iolanda sia per l'Arco Lormanno di cui probabilmente nei prossimi mesi torneremo a inaugurare. Grazie mille, l'aspettiamo.